In omaggio alla grazia, alla bellezza, allo charme e alla malizia delle donne italiane Guardando tra gli annunti scritti su giornale, mi è capitato di vederne uno Diceva grande ditta, offreva un lavoro, a Giovanna o Tinga, va che ti sape a far Allora mi presento a mezzogiorno in punto, ma insieme a me ce n'erano trenta sei Arriva al campo una bellissima ragazza, lo osserva tutti quanti poi mi guarda e fa E quel tipo che io cercavo, adesso l'ho trovato che va bene a me E quel tipo che io cercavo, a casa tutti gli altri scelgo questo qua Così senza aver tempo neanche di fiatare, con lo che fissi sempre sottile Mi trovo sistemato come fattorino, cinquanta mille mesi più l'identità Ma guarda che carriera mi sono rimediato, a rifacere non ne posso più Però non mi lamento, dato che ogni giorno portandoli la posa io rivedo lei Andiamo! Uno, due, tre E quel tipo che io cercavo, è come un chiotto fesso non raciono più E quel tipo che io cercavo, potrei morire di fame ma rimango qui La, 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 la Grazie a tutti